E' per fortuna che è un'oasi naturale. A Porto d'Ascoli la riserva regionale della Sentina, più che un'area protetta, ha le parvenze di una discarica dove sono disseminati ripiuti tossici di ogni genere. Dall'astre di Eternit a pneumatici, da fanghi di probabile origine industriale a plastica. La denuncia è arrivata da una guardia ecologica volontaria e ora il presidente del comitato di indirizzo, Pietro D'Angelo, e i dirigenti provinciali di Legambiente hanno segnalato lo scempio, richiedendo con urgenza un intervento dalla provincia di Ascoli, sia per la rimozione dei ripiuti che per la chiusura della strada sterrata che consente l'ingresso ai mezzi meccanici. Quello di cui la riserva avrebbe bisogno sarebbe un maggiore controllo e un'oculata vigilanza da parte della polizia provinciale. In un'oasi protetta, come potete vedere, vengono scaricati materassi, ammassati l'uno sopra l'altro e probabilmente giaciglio per gli extracomunitari che vivono qui. Non mancano poi decine e decine di pneumatici, gettati fra le sterpaglie e soprattutto tante lastre di amianto abbandonate, tutto materiale estremamente pericoloso e cancerogeno che dovrebbe essere smaltito secondo delle regole precise. Qui poi c'è il cartello della riserva che vieta la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Appena dietro però vediamo blocchi di cemento abbandonati. La notte inoltre la riserva diventa luogo d'incontro dove sesso e droga la fanno da padrone. Come vedete ci sono preservativi disseminati ovunque e fra un sentiero e l'altro spuntano anche delle siringhe. Paolo Prezzavento di Legambiente infine ci mostra questi ammassi di terra sospetti. Sono fanghi di origine industriale, scaricati lì da qualche azienda e probabilmente ad elevato livello di tossicità. Tanto per non farsi mancare nulla, nella riserva c'è anche un inquilino, un signore che sotto la rampa di accesso ha costruito abusivamente la sua casa. Alla luce di tutto ciò, l'appello che viene lanciato alle istituzioni è uno solo. Maggiore controllo e presenza massiccia per combattere attivamente il malcostume di chi inquina e di chi considera un'area protetta come un luogo di perdizione.